salve a tutti sono stil pensionato e stavolta sono su minecraft pocket edition proprio così pocket edition perché è finita la scuola finalmente dopo tanta sofferenza dopo tanta sofferenza non chiedetemi perché proprio oggi finisce la scuola perché non so neanche io la mia scuola finisce prima ma meglio molto meglio e faccio un video sulla pocket edition e vedo che sono appena tornato da scuola e questo video non è che ho avuto tanto tempo per pensare a cosa fare quindi cazzeggerò non so forse il video lo chiamerò cazzeggio time ma vabbè poco questi sono i miei cani i lupi come li volete chiamare così via spera che mi equipaggio qualcosa ok almeno sono più equipaggiato con termatura ok finisco tutte le ampolle intanto cosa me ne frega c'è room a vuoi un po di room cavallo io te lo do molto volentieri tiene il mio room è una bottiglia di una bottiglia di room dai perché non bevi il room guarda che buono è andiamo rimasto un xp cosa ci fa questo albero in mezzo al nulla mi tocca mettere in carica il telefono vabbè finisce sto video lo metto in carica è vero mi dimentico sempre per andarli vicino guinzaglio guinzaglio vieni dai hai rotto cavallo allora guinzaglio ok vieni 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 e non rompere è qui è legato si scusa oh finalmente ok ultime xp oh la 33 io per la fame ma dico per la fame dovrei cacciare qualche animale ah un minzaglio allora cazzeggiamo direi dove possiamo andare io direi di andare dritto intanto ecco dai sta spada ho anche cucinato bene anche tu pollo dove sei scappato attenti ai polli e mi raccomando su minecraft stateli sempre alla larga che questi li uccidono con un colpo adesso sono ben equipaggiato ma attenti voi voi che mi state sentendo attenti e e vabbè il karma quando parlo io casco ma c'è dove cavolo ah è lì ok quando vedo la bedrock e c'è la mia casa nomade ma muori cosa vai verso l'acqua quanto mi ha dato solo uno vabbè mi devo accontentare guarda qua parkour per i polli questi qui se si accorge di me non se ne accorta per fortuna se no erano guarda poteva veramente ammazzarmi allora mi è venuta in mente un'idea devo scalare con la specie di everest allora intanto si non ti aiuto non ti aiuto io scalo devo cercare di scalare quell'everest portando una bandiera e come me la fabbrico quanto 64 di quelli mi riesco a fabbricare ma non ci faccio nulla ah finalmente allora dov'è lo stemma con la roba lì è la mia prima partita in minecraft ecco e come si fa allora pare di averlo visto qui no qui no qui si qui 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 e come si fa mi si è attivata la camera ha problemi hai oh ecco bene non posso farmi un standard vabbè ci metterò qualcos'altro e penserò dopo cosa metterci direi questo dai vabbè un creeper vabbè u tre pecore si che mi serve più di porco bue muschiato è bastato una spadata quanto no l'inventario voglio io